Allora, questo è il Fivetext di Bangpli, di Bangkok, vediamo, molto carina la struttura, ci sono quattro ring, come a pataglia, molto spazioso. Andiamo il carro. Allora, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra, è un'altra, questo è un'altra, questa è un'altra, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.